E' Cino Augusto Cecchini, il nuovo comandante della Polizia Municipale di Arezzo scelto dal sindaco Alessandro Ghinelli dopo una lunga selezione. Dopo una selezione abbastanza lunga con più di 60 candidati che sono stati selezionati dalla commissione esaminatrice ne sono stati estratti 5, tutti e 5 di altissimo profilo, io li ho incontrati tutti e 5, mi sono formato un'idea, ho poi pensato che le caratteristiche migliori che potrebbero portare, che potranno portare, che porteranno sicuramente nella nostra città un cambiamento di approccio della Polizia Municipale rispetto alla sicurezza sulle strade e sul territorio, erano incarnate in personale dal comandante Cino Augusto Cecchini, attualmente vice comandante a Padova, già comandante della Polizia Provinciale, direttore della Scuola di Sicurezza Urbana del Veneto, quindi con una grande curriculum, una grande esperienza. Io sono sicuro che Cecchini, insieme alla Polizia Municipale e insieme all'assessore di riferimento che sono io, farà grandi cose ad Arezzo. Operatività, la parola d'ordine del nuovo comandante della Polizia Municipale di Arezzo. I primi obiettivi sono quelli di creare una polizia locale che sia, diciamo così, incline e rispondente alle aspettative del signor Sindaco e della Giunta che in questo momento sta governando la città. Quindi una polizia locale di Arezzo che io, scusate la chiamo locale perché da noi nel Veneto si chiama polizia locale, quindi faccio fatica ancora a rientrare nel nome municipale. Ripeto, in maniera tale che assieme a tutto il personale, dal più giovane assunto qualche giorno fa fino a quello più anziano, poter condividere percorsi di operatività, perché il nostro lavoro è soprattutto operatività. Operatività fatta in una certa maniera come io sono abituato a interpretare il ruolo della polizia locale, perché poi non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo la polizia del comune e quindi molto vicini ai cittadini.